Opa, ci hanno la maturità, godetevela, io l'ho fatta ormai 30 anni fa e questa notte fino alle 2, alle 3, alle 4, alle 5 con Antonello Venditti sullo sfondo, si studia, si studia, si studia, si cerca di capire che cosa ci sarà nel tema di italiano di domani, non so se abbiate avuto delle soffiate, guerra, crisi energetica secondo me centrale sarà lo scudetto del Milan, non so se nei siti specializzati gira qua secondo me ragazzi il diciannovesimo scudetto del Milan potrà essere una delle tracce su cui domani tuffarsi però detto questo avete la tazza del caffè, avete gli estate, avete biscotti, avete pane e salame godetevela perché magari un po' di angoscia ce l'avete come ce l'avete a noi, vi sembrerà di non ricordare nulla vi starete riempiendo di bigliettini in ogni dove, calze, mutande, camice, risvolti dei pantaloni stando alle statistiche almeno uno studente su tre cercherà di copiare non dico nulla perché non si deve dare il cattivo esempio però vi posso dire con l'esperienza di qualcuno che l'ha fatta 30 anni fa la maturità a Milano al liceo classico, al Manzoni, io vado a memoria italiano, greco, poi all'epoca c'erano gli orali storia, latino, io ho fatto il classico perché di matematica ci capivo poco però questa è una notte che vi ricorderete per tutta la vita ce l'avete a Tonello Venditti sullo sfondo? io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra è un pianoforte sulla spalla pronti a copiare? non si fa, non si dice però domani quando escono le tracce sicuramente un'occhiata alla compagna più in gamba, al compagno più in gamba prof, un appello alle prof e ai prof lasciate che sti ragazzi dopo due anni di dad, di vita infernale, didattica a distanza mascherine, casini, scuole chiuse, università chiuse, oratori chiusi stadi chiusi, discoteche chiuse lasciategliela godere sta maturità 539 mila ragazze e ragazzi che faranno grande l'Italia lasciate che le ore domani mattina mi sembra alle 8 e mezza mio figlio mi ha detto io comincio alle 8 e mezza non consegnate troppo presto prendetevi tutto il tempo necessario per il tema dopo domani inglese, poi gli orali però vi dico se siete angosciati stanotte vi capisco questo martedì notte, poi insomma Di Maio ha mollato i 5 Stelle quindi non è un martedì 21 giugno, primo giorno d'estate come gli altri è ciumbia, qua cambia al mondo la scissione dei 5 Stelle domani il tema non sarà su questo perché questa è geografia astronomica, è un'altra materia domani italiano, quindi non so se Ungaretti, Montale, Quasimodo, D'Annunzio sicuramente se avrete un po' di vuoto buttarsi sull'attualità e dare una sbirciata al banco di quella o di quello di fianco poi inglese, io arrivo a quest'ora che vedo poco e niente però sono contento di inaugurare la prima diretta su TikTok con voi messo un vecch, sedisa Milan, 49 anni sono tanti però ripeto, tenetela a memoria, se questa notte vi sembrerà infinita se non vi ricordate più niente, se state impazzendo se vi dite non ce la faccio e non ce la farò, balle ve le ricorderete queste ore come le più belle della vostra vita e quindi godetevela fino in fondo anzi, io adesso vado in cucina e mi faccio un cafferino quindi pausa, caffè al mezzanotte e sette minuti due o tre minuti, non ve li rubo di più facciamo il caffè insieme allora, vediamo se riesco la cucina è un po' incasinata però, dedicato a voi perché vi invidio dal profondo del cuore vedo che il tema sul Milan si sta facendo strada spero che al ministero della pubblica istruzione della scuola stanotte ci pensino perché è stato uno scudetto trionfale magistrale, epocale, eccezionale però sicuramente la geopolitica, l'Ucraina la Russia, la crisi energetica le migrazioni il cambiamento climatico non piove più non piove più e questo dipende dal buon Dio più che da altri allora, aspetta un attimo tac dov'è la tazzina? state facendo anche voi una pausa e tanto fra Ungaretti e Quasimodo non è che i due minuti per il caffè facciano casino più di tanto speriamo di riuscire a fare dedicato a voi ragazze ragazzi cosa ne pensi di Leao? ecco, un tema su Leao secondo me difficilmente viene fuori però madonna ma quanti siete? ma perché non state studiando? no, scherzo dai, uno, schiaccio il pulsantino e vediamo se parte la macchinetta del caffè tac, si schiaccia lo faccio e perché non parte? ho la macchinetta del caffè ferma, bloccata no, perché avevo collegato stordito che sono per fare la dieta il telefonino macchinetta del caffè allora non aver paura andrà tutto bene andrà tutto bene andrà tutto bene andrà tutto bene ma andrà tutto bene però l'hanno detto un po' nei nei mesi passati dai, diciamo che vi auguro di godervela vi auguro di godervela scorri verso destra io la prima volta che vengo qua su TikTok è un casino però spero di non star facendo più confusione del dovuto forza Roma forza Lazio forza Juve forza Inter no, forza voi siete il meglio dell'Italia ragazze, ragazzi grazie siete voi il futuro non noi noi stiamo cercando di fare il possibile però il futuro dell'Italia siete voi voi belle e belli brutte e brutti adesso al di là del politicamente corretto che non si può più neanche fare un complimento a una bella ragazza o a un bel ragazzo che ti denunciano grandi voi stanotte grandi, grandi, grandi via di caffè c'è il rumore della macchinetta eccola qua vedete scende io lo prendo con un po' di zucchero schiacciamo 3, 2, 1 a lei questo è la vostra salute spero lo stiate bevendo anche voi poi farete voi avete il fisico io no? le 2 le 3 le 4 domani mattina sveglia alle 7 docettina barba non dico sigaretta perché io ho smesso di fumare 3 anni e mezzo fa e sto meglio e si risparmia un sacco di quattrini quindi lo dico a mio figlio come lo dico a tutti voi in bocca al lupo godetevi questa notte prima degli esami che racconterete ai vostri figli e racconterete ai vostri nipoti e domani consiglio scegliete subito il tema quando aprono la busta che sentite più vostro e scrivete e scrivete non state lì a farvi tante menate scrivete io ho scelsi quello d'attualità ovviamente perché quando non sei perfettamente ferrato su uno degli altri temi vai di attualità e scegliete scegliete andate scrivete fate parlare il cuore godetevela in bocca al lupo e poi magari ci sentiamo nelle prossime sere magari domani ci raccontiamo e mi raccontate visto che siete una marea come è andata no qua adesso non datemi la colpa se non esce il tema sul Milan l'ho detto scherzando penso che sia difficile che arrivi il tema di maturità su Leao e Sandrino Tonali sarebbe spettacolare io ai vostri tempi anzi ai miei tempi avrei fatto carte false allora c'erano se c'è qualche cinquantenne collegato Gullit Van Basten Raikard Franco Baresi Mauro Tassotti però c'è un tema sul Milan insieme a quello su Ungaretti non ci starebbe malissimo in bocca al lupo dicevo ragazzi qua mi arrivano segnali strani accetta rifiuta invita devo aggiornarmi un pochino perché qua mi chiedono di fare una live insieme io giuro che stanotte mentre voi studiate d'annunzio e montale io cercherò di capire come si fanno le live insieme non pensavo foste così tanti Ludmilla Alessandro Luca Francesca spero che la notte vi porti tante cose belle domani sera se abbiamo voglia mi raccontate com'è andata che tema avete scelto trap adesso mi state scrivendo robe che ripeto il trap il rap baby gang no vada via i pe alle baby gang come se dice a Milan la sa sta godetevi la musica godetevi l'amore godetevi la vita godetevi lo sport senza casini senza senza altre robe che non c'entrano niente chiudo da dove son partito questo è un pezzo d'antiquariato che mi ha regalato la Francesca la cabina telefonica della SIP degli anni 80 ma voi cosa ne sapete voi del 2000 voi cosa ne sapete di quando si metteva il gettone lì in cima altrimenti a casa non si telefonava in bocca al lupo a Ungaretti a Montale a D'Annunzio a Pascoli ad Alaina a Luca a Marcello raga non riesco a starci dietro poi la sera io ci vedo sempre di meno state ma io faccio anche qualcuno mi scrive stiamo insieme tutta la notte Matteo a voi non conviene fate il fatto che sto caffè mi si raffredda però alla vostra salute se scegliete il tema di italiano chapeau perché la parafrasi madonna mia me lo ricordo ancora con ansia la parafrasi di alcune poesie e vogliamo parlare della divina commedia ma vogliamo parlare dei promessi sposi ahimè da allora non li ho più riletti perché mi venivano a nausea e impara a memoria il capitolo e impara a memoria la terzina e impara a memoria il canto e ti fanno passare la voglia quando te la fanno così e un saluto ai prof e alle prof ditemi un piccolissimo grazie perché grazie a quel rompipalle di Salvini alla Lega non c'è l'obbligo di mascherina domani altrimenti a Milano a Roma a Palermo a Torino a Genova a Bolzano a Catanzaro in classe con 40 gradi e senza aria condizionata vi avrebbero imbavagliato e non sarebbe stato il massimo e dai e dai abbiamo rotto le scatole a quel genio del ministro Speranza al ministro della scuola quantomeno l'obbligo di mascherina è saltato per gli studenti per i prof e per i bidelli ai ho detto bidelli scusate collaboratori scolastici ai miei tempi si chiamavano bidelli adesso non so massimo rispetto per tutto il personale ata della scuola quindi sono contento che possiate fare lo scritto senza la museruola senza il bavaglio senza soffocare e date spazio ai vostri neuroni sperando che siano tanti alla vostra memoria sperando che la notte ve la alleni e ripeto per chi non lo conosce Antonello Venditti col suo mitologico pezzo notte prima degli esami deve essere il sottofondo per tutti voi e date poi voce al cuore voce al cuore stupite stupite i prof perché mi hanno messo un cappellino in testa adesso mi stanno uscendo cose strane non so sto facendo già sono bruttino da vedere però stupite mettete nel tema la strofa di una canzone che vi piace un ricordo del vostro nonno un passaggio dell'estate della fidanzata del fidanzato lasciate un segno vivetela fino in fondo questa vita fatelo vostro questo tema non fatelo giusto per farlo si vive una volta sola e si può scegliere di vivere oh perché mi mettono i baffi mi mettono i cappelli ma su tiktok posso fare queste robe qua oh dai eh che stai a fare stavo dicendo qualcosa di mezzo serio cioè fate un tema sentito non un tema scontato e mi raccomando una roba ecco io solo una roba non tollero quando leggo anche i messaggi su tiktok o su instagram c'è gente che magari mi fa i complimenti mi fa delle domande o mi insulta ecco io una roba non tollero e se fossi uno dei prof che va a correggere gli esami questo non lo perdonerei mai posso chiedervi una cortesia non violentate non stuprate non vi dipendete non oltraggiate il congiuntivo per favore vi affido il congiuntivo è così bello la consecuzio temporum il congiuntivo il condizionale usare qualche avverbio qualche aggettivo però veramente come si dice a Milano me cade Nibal quando uno sbaglia il congiuntivo sento anche giornalisti politici intellettuali professoroni ecco no il congiuntivo no puoi cadere su tutto ma non sul congiuntivo mi raccomando quindi vi ho rubato anche troppo tempo un quarto d'ora della notte più bella che vi ricorderete con più gioia siete alcune migliaia e vi vorrei abbracciare perché vedo ecco non abbraccio quello che mi sta mettendo un cappello da scemo i baffi grigi però come abbraccio mio figlio che in questo momento starà studiando perché sono giorni che gli chiedo come va e mi manca un sacco di roba mi manca un sacco di roba dai che questa è la notte giusta domani entusiasmo sorriso cafferino gazzetta sotto il braccio perché vabbè ci saranno gli interisti stanotte un po' più contenti di altri perché pare che ritorni Lukaku che questo qua va e viene va e viene vado vengo vado vengo è nomade dei campi del pallone però diciamo che questa notte prima degli esami magari per gli interisti è un po' più dolce e un abbraccio in particolare alle prof e ai prof e grazie per quello che fate spesso mal pagati spesso ignorati spesso attaccati ingiustamente perfino da genitori che in maniera stupida scelgono di stare sempre dietro il loro bimbetto o la loro bimbetta mentre invece la prof ha sempre ragione come l'arbitro ha sempre ragione grazie perché siete la spina dorsale del nostro paese la scuola purtroppo da molto ignorata è la spina dorsale del nostro paese quindi grazie a chi domani entrerà in quella classe con qualsiasi età di qualsiasi classe sociale con qualsiasi spirito con qualsiasi idea politica grazie là sullo sfondo c'è una Francesca che adesso raggiungo questo è dedicato a voi di gusto puoi salutare il mio amico puoi fare gli auguri per la maturità e sono qua a dire buona maturità ragazzi buona maturità adesso domani cerco di capire come mettere come sottofondo musicale notte prima degli esami però vi si vuole bene buona lunga notte e andate e spaccate daje senza paura di niente e di nessuno adesso devo solo capire come finisce la diretta su tiktok perché l'ho fatta l'ho inaugurata insieme a voi gude scasciacusè cioè dove devo schiacciare ci sarà qualcosa che io devo schiacciare perché su instagram c'è metti la fine dove devo andare dimmi mi stai facendo dove in alto a destra facciamo insieme aspetta scusa un attimo dai vieni non sono capace non sono capace cosa stai facendo dove 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 devo schiacciare dove dove ah ecco abbiamo finito